Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 per traffico intenso in direzione sud ci sono code alla barriera di Rosignano. Sulla A11 fare attenzione per un veicolo in avaria segnalato tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in pruneta. Chiudiamo con i treni, ricordiamo che per lavori la circolazione tra Pistoia e Montecatini Terme è sospesa fino al 31 agosto, servizio garantito con Corse Bus. E per lavori sulla linea Faentina è sospesa fino al 1 settembre la circolazione tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!